AgriFake, la seconda stagione. Il podcast che parla di agricoltura, piante e cibo, senza censure e non political correct. Il podcast che dà voce a tutti. Una produzione di Andres Capri. Buongiorno a tutti, inizia questo terzo episodio con Luca Romano che è appunto l'avvocato dell'atomo. Se non l'avete ancora fatto, ascoltate gli episodi precedenti per avere un quadro più completo riguardante il tema del nucleare che stiamo affrontando. Se non l'avete ancora fatto, mettete 5 stelle al podcast se state ascoltando da Spotify o mi piace se state guardando il video su YouTube e ovviamente l'iscrizione al canale su YouTube, che sembrano tutte banalità, però in realtà sono cose importantissime per sostenere la mia divulgazione. Grazie. Nucleare, in parte abbiamo già detto questo concetto, però nucleare contro energie rinnovabili. Secondo te è meglio una, è meglio l'altra? Oppure funzionano bene entrambe assieme? Funzionano bene entrambe assieme. Voglio precisare che la cosa fondamentale qua è capire il contesto in cui ci si trova. Come dicevo prima, le energie rinnovabili hanno delle limitazioni dovute alla geografia, nel caso del geotermico anche alla geologia. Per cui ci sono posti nel mondo dove possono essere sfruttate molto bene, l'idroelettrico e il geotermico ad esempio. Ci sono posti del mondo dove ha senso fare il solare e l'eolico, ad esempio al sud Italia il solare va benissimo. L'eolico già in Italia per esempio non è un paese particolarmente ventoso. Quindi le fonti rinnovabili vanno implementate perché hanno dei vantaggi, sono economiche e si implementano molto rapidamente, in base a quanto il contesto consente di fare, nel senso laddove è possibile sfruttarle adeguatamente è giusto investire anche su quelle. Il nucleare va a complementare, nel senso che siccome le rinnovabili non sono, è molto raro che possano supplire da sole a tutto il fabbisogno di un paese industrializzato, nel caso dell'idroelettrico e del geotermico perché la geografia e la geologia è raro che aiutino così tanto, ci sono delle eccezioni come Svezia e Norvegia, scusa come Islanda e Norvegia, ma sono appunto eccezioni. Nel caso del solare e dell'eolico perché questi ultimi sono intermittenti, quindi anche se magari ci sono più o meno ovunque non sono disponibili 24-7. E quindi è indispensabile trovare la giusta combinazione di rinnovabili e nucleare e massimizzare gli svantaggi delle une e dell'altro e massimizzare i vantaggi delle une e dell'altra. Certo, perché appunto, come dicevi, le rinnovabili sono intermittenti, mentre il nucleare puoi aumentare o diminuire la produzione in maniera veloce oppure… Veloce no, puoi farlo, però non è una risposta velocissima, neanche lentissima. Il motivo per cui si tende a non farlo è che il nucleare ha un motivo economico, il nucleare ha un costo capitale elevato e questo significa che io pago tanto il reattore e poi pago poco la materia prima. Quindi chiaramente, avendo un costo capitale elevato, la massima convenienza ce l'ho se spalmo il costo iniziale sul massimo numero di energia di kilowattora prodotti possibili e pertanto, come dire, è più conveniente tenere il nucleare alla massima potenza per la maggior quantità di tempo possibile. Certo, quindi farlo sempre andare alla massima potenza per ammortizzare i costi. Laddove è possibile, sì, chiaramente. Non sempre è possibile farlo, però appunto ci sono comunque dei margini, ecco, tra virgolette operativi. Ecco, il nucleare può comunque modulare. Diciamo che se si resta sopra il 70%, il costo dell'energia non aumenta troppo e ci si può comunque lavorare. Potremmo dire che il nucleare in un paese potrebbe essere la base di produzione di energia, cioè la maggior parte in cui i consumi ci sono tutti i giorni e poi uno va a modulare con l'energia intermittente, a seconda anche delle disponibilità. Sì, allora, il nucleare in generale dovrebbe essere la base load, cioè fornire il carico base, cioè quella parte del carico di rete che non varia mai nel corso della giornata. Poi, diciamo, bisogna anche cercare di fare in modo che le rinnovabili possano seguire il carico il meglio possibile, cioè l'implementazione di smart grid, di elettrodomestici intelligenti e via dicendo, è anche funzionale all'avere delle rinnovabili ottimizzate. Se io, per esempio, ho una lavatrice che si attiva da sola quando c'è il sole, io faccio il carico e gli dico attivati nel momento in cui conviene farlo, ottengo, diciamo, il massimo della convenienza. Certo. Per chiudere il discorso ambiente e sostenibilità, il nucleare produce CO2 durante il suo funzionamento oppure 0 CO2? Durante il funzionamento produce ovviamente 0 CO2. 0 CO2? Durante, diciamo, il ciclo vita, chiaramente c'è una produzione di CO2 associata alle attività minerarie, alle attività costruttive e via dicendo, che questo però vale anche per le rinnovabili, e in generale comunque questa produzione di CO2 è molto, molto bassa, cioè parliamo di un'equivalenza di 5 grammi di CO2 per kilowattora. Ok. A fronte delle rinnovabili, per esempio, già il solare è intorno a 50, ma ci sono stime che lo collocano ancora più in alto. Ah, il solare comunque 10 volte più, cioè produce 10 volte di CO2 in più rispetto al nucleare? Minimo 10 volte. Minimo 10 volte. Considerando l'intera filiera. Stime che vedono il solare molto, molto sottostimato, quindi... Ok. Come dicevo, appunto, i combustibili fossili poi sono, diciamo, fuori scala da questo punto. Esatto. Certo. E invece in termini di inquinanti emessi, per esempio, nell'aria, c'è qualcosa che viene prodotto oppure zero inquinanti, per dire polveri sottili o altre... Zero. Zero. L'accentrale nucleare emette solamente vapore acqueo. Solo vapore acqueo. E neanche sempre, nel senso che le centrali costruite sul mare normalmente non hanno le torri evaporative, perché prendono l'acqua di raffreddamento dal mare e la ributtano in mare. In altri casi, invece, ci sono le torri evaporative, quando ad esempio le centrali sono sui fiumi o sui laghi, o comunque non si vuole aumentare per qualche motivo troppo il prelievo d'acqua. E quindi si usano le torri... Quindi non per forza ci devono essere le torri evaporative in una centrale nucleare? No, non per forza. La maggior parte degli impianti che si trovano sul mare non le hanno. Quindi quelle che ho dietro di me adesso nello spondo, cioè non sono tipiche di tutte le centrali? No, in realtà tutte le centrali che hanno un ciclo vapore hanno le torri evaporative, quindi molte centrali anche a carbone le hanno, e quella che hai tu dietro potrebbe anche essere una centrale a carbone in realtà. Però l'ho presa da Wikipedia mettendo centrale nucleare. Ok, allora magari è una centrale nucleare, non lo so. Non mi ricordo più, l'ho chiusa la pagina, quindi non mi ricordo. No, no, ma magari è una centrale nucleare. Però quelle torri lì sono state rese molto celebre dai Simpson, però sono tipiche di tutti gli impianti con un ciclo vapore. Ho capito. Le centrali nucleari possono averle, ma se sono sul mare possono anche non averle. E in termini di pericolosità delle radiazioni, chi abita vicino a una centrale o chi abita vicino a uno smaltimento di scorie, ci sono differenze in termini di sicurezza per quelle popolazioni? No, assolutamente no. Né una centrale né un deposito di scorie rilasciano radiazioni nell'ambiente. Si sta molto attenti su questa cosa. Il monitoraggio tra l'altro è costante e estremamente attento. C'è addirittura un sito, uno può andarlo a vedere se vuole, si chiama mesurradioattività.fr, per quanto riguarda la Francia, dove ci sono costantemente monitorati tutti i valori di radioattività nell'intorno delle centrali nucleari, per cui assolutamente no. Certo. Sto chiudendo, è l'ultima domanda o penultima. Se noi volessimo iniziare a costruire nucleare in Italia, i tempi per iniziare a produrre energia nucleare, in quanto ci metteremmo? Allora, dipende. Bisognerebbe fare innanzitutto il siting, quindi la procedura di scelta dei siti che ospiteranno le centrali, che richiede una burocrazia abbastanza lunga, ma lì l'Italia avrebbe il vantaggio di avere già dei siti che hanno ospitato centrali in passato. E quindi di poter... Ripartire da quelle. Ripartire da quelle, esatto. Poi c'è da fare il progetto, e anche lì il progetto va sottoposto a controlli e revisioni estremamente rigorosi, per cui la realtà è che, secondo me, ci vorrebbe... Cioè, se l'Italia oggi partisse con un disegno di legge che riporta il nucleare in Italia, realisticamente ci vorrebbe tre o quattro anni prima di partire con il cantiere. Una volta che il cantiere è partito, diciamo che tra sette e dieci anni di lavori puoi aspettarteli, con ovviamente i primi reattori che sono più nella parte alta di questo range e poi quelli successivi che sono più nella parte bassa, magari anche meno di sette si può arrivare fino a cinque, in Cina arrivano a quattro e mezzo. Per cui, se oggi l'Italia riaprisse il nucleare, potremmo aspettarci realisticamente di iniziare a produrre energia nucleare nella seconda metà degli anni 30. Ho capito, quindi i tempi non sono proprio così immediati, diciamo? No, non sono immediati, ma non sono neanche lontanissimi se pensiamo che comunque gli obiettivi che ci siamo dati per il clima sono al 2050. Certo. E chiudo con una domanda provocatoria. Poi chiudiamo l'intervista. Secondo te è giusto fare un referendum dove si fa decidere al popolo che non è esperto in materia, che non è esperto di nucleare, decidere sì o no nucleare? Oppure dovrebbe essere una scelta che viene dall'alto per dire se gli esperti di un comitato scientifico dicono che il nucleare è sicuro, che il nucleare ha più benefici che costi, alla fine è giusto farlo. C'è il tuo pensiero riguardo a questa cosa? Allora, diciamo che fare un referendum sul nucleare secondo me è stato un atto di populismo. in generale l'istituto del referendum trovo che sia molto abusato in Italia. Certo. Dopodiché la Costituzione lo prevede e quindi se un domani venissero introdotto il nucleare sicuramente i contrari raccoglierebbero le firme per un nuovo referendum abrogativo e quindi bisogna tenere questa cosa in conto. E così succederà. Per cui... Quindi diventa molto difficile? No, no, non diventa molto difficile perché innanzitutto oggi c'è una maggioranza di cittadini favorevoli al nucleare. I contrari sono ancora una quantità importante, il 25-30%. Ma non rispetto al passato. Ma diciamo che c'è un 50% di... positivi rispetto al nucleare o in maniera netta o in maniera, diciamo, aperturista, possibilista. E poi c'è comunque il fatto che io non credo che di fronte alle bollette così alte che abbiamo sperimentato in questi anni io credo che molti cittadini non andrebbero a votare un referendum nucleare. Esatto. Sarebbe un po' diversa la situazione rispetto al passato. Esatto. Certo. Noi ti ringraziamo tantissimo, Luca. io penso di aver toccato un po' tutti i punti. Se volevi aggiungere altro altrimenti possiamo chiudere qua ringraziandoti tantissimo per la partecipazione. No, non credo di avere altro da aggiungere quindi ti ringrazio e ci risentiamo. Esatto. Invitiamo tutti gli ascoltatori a iscriversi a tutte le tue pagine social quindi alle vostre pagine social grazie e a leggere il libro. Hai ascoltato il podcast AgriFake? Iscriviti e attiva la campanella per sapere quando uscirà il nuovo episodio. Inoltre ho un canale YouTube e una pagina Instagram. Grazie e a presto. Grazie. Grazie. Grazie.